Il comune. Il comune non ha da darmi né una casa né un letto e allora ai tanti come me offre un pulmino che gira tutta la notte mentre noi dormiamo sui sedili. Poi all'alba ci scarica a piazza dei partigiani. Commento. Esistono delle vite inimmaginabili create dalla coscienza di chi vive queste vite. Anche se appartengono alla perfetta giustizia del tutto, l'ingiustizia è in chi si disinteressa di quelle vite. Grazie.